Buonasera e benvenuti e benvenute a tutti i partecipanti di questa seconda edizione della Digital School di Aruba Business. Quindi andremo a vedere in questa ora e mezza che passeremo insieme come cambia la SEO con l'avvento dell'intelligenza artificiale e qual è la direzione che Google sta prendendo. Però intanto che entriamo nel vivo dell'argomento vi presento le prossime lezioni della Digital School. Così andiamo a vedere che cos'è che andremo a trattare nei prossimi appuntamenti. Intanto magari che io vi spiego quelli che sono i prossimi appuntamenti, se vi va presentatevi in chat, scrivete da dove venite, da dove ci state ascoltando e soprattutto, visto che parliamo di SEO e che abbiamo un'ora e mezza che passeremo insieme, incominciate magari a mettere i vostri progetti, a vedere quelli che sono i dubbi o che tipo di aspettative avete in modo che possiamo parlarne. Infatti tenterò di farvi interagire anche con domande specifiche che riguardano l'intelligenza artificiale e i vostri progetti. La prossima lezione l'avremo il 28 di novembre. L'orario è sempre quello, dalle 16.30 alle 18 e avremo Francesca Bernini. Quindi parleremo dell'e-commerce sui social perché è una delle tematiche per quanto riguarda l'e-commerce più interessanti degli ultimi anni, con tutte le funzionalità gratuite e a pagamento dei vari social e tante cose che si stanno andando a realizzare. Dopodiché andremo al 17 di gennaio dove andremo a fare un'introduzione all'intelligenza artificiale nelle agenzie e nei team digital, quindi un argomento diciamo molto molto caldo che terrà Alessio Pomaro, sempre di search on. E poi abbiamo Michela Lombardo dove ci verrà a parlare di TikTok per le aziende, quindi come sfruttarlo al meglio e come interagire con il mondo della content creation. Insomma questo è un po' il piano di quelle che sono le giornate che faremo insieme qui alla Digital School di Aruba Business. Andiamo a vedere, così leggo se c'è qualche domanda, vediamo se riesco a ricaricare la pagina, così andiamo a leggere. Ok, ci siamo. Allora l'audio è basso, l'abbiamo sistemato, come si sente? Ora dateci un feedback intanto. Allora saluto un po' tutti. Ok, allora abbiamo San Marino Warner, ok la chat parte. Luisa, ciao Luisa, con te ci vedremo anche a breve, il 31 a Bologna. Ok, il volume, vuoi che alzo il microfono che magari l'ho messo un po' basso e avete difficoltà? Vediamo se, aspettate un attimo. Vediamo così come si sente, vediamo che feedback avete, perché magari era colpa mia. Era colpa mia, ok. C'è anche Laura, ciao Laura. Ok, andiamo a trattare, sì perché ce l'ho proprio qua, però insomma dovrebbe, ora dovrebbe essere sistemato, ok, ok. Va bene. Allora, andiamo a vedere che cos'è che è successo negli ultimi mesi, qual è la direzione che Google ha preso, perché insomma è abbastanza importante tutto quello che sta succedendo, così ci aggiorniamo. Poi ovviamente chi partecipa a più cose di approfondimento, di Aruba o ad altre cose che noi andiamo a realizzare, sono più o meno approfondite perché comunque di notizie ne abbiamo tantissime, però partiamo da un dato di fatto, no? Quello che ChatGPT, quindi l'azienda che detiene ChatGPT OpenAI, ha rivoluzionato il mondo di internet e direi anche il mondo. Nel senso che con l'uscita il 31, il 30 di novembre dell'anno scorso, quindi stiamo per fare un anno quasi, che abbiamo ChatGPT, è cambiato tutto quello che è l'approccio all'intelligenza artificiale, ma soprattutto all'intelligenza artificiale generativa. Le aziende che stavano lavorando a progetti più o meno segreti, più o meno stabili, più o meno affidabili, hanno dovuto fare una corsa per tentare di adeguarsi a quella che era una nuova esigenza del mercato. Le due aziende che si sono mostre più velocemente dopo OpenAI sappiamo che sono Microsoft e Google, con due direzioni all'inizio opposte, ovvero che Microsoft ha deciso di fare un accordo commerciale con OpenAI e quindi anche acquistare e investire in OpenAI per utilizzare in modo esclusivo alcune cose, alcuni algoritmi e metodi di intelligenza artificiale in tutto l'ecosistema Microsoft. Abbiamo visto l'ultimo upgrade addirittura dentro Windows, perché questa è la direzione che stiamo prendendo con l'AI, ovvero software e hardware. Intel, ad esempio, sta per rilasciare i computer già pronti per l'intelligenza artificiale. Gli hardware di Google, come il telefonino, il Pixel 8, che è stato annunciato, ha tutto il Tensor 3 basato, quindi il chip, quindi l'hardware, è fatto apposta per l'intelligenza artificiale. Quindi, da un lato Microsoft che ha deciso di fare questa mossa, dall'altro Google che ha deciso di farne un'altra, diversa, all'opposto, ovvero già Google aveva tutte le sue cose dentro l'azienda, ma ha deciso, con uno dei sistemi probabilmente più interessanti che abbiamo sul mercato, di rilasciare e dare la possibilità a tutte le aziende di partecipare alla corsa all'AI. Che significa? Ha rilasciato Vertex.ai, Vertex è il sistema di Google che consente in cloud di utilizzare qualsiasi modello di linguaggio, qualsiasi metodo di intelligenza artificiale che Google rilascia, quindi ha deciso di dare la possibilità a tutte le aziende di farlo con facilità veramente molto incredibile. Faccio un esempio molto concreto che ci fa capire la differenza tra i due colossi, tra Microsoft che ha un sistema chiuso, che praticamente usiamo tramite i suoi software, e Google che dice no, tutti devono poter accedere. Canva, che oggi state utilizzando e che utilizziamo tutti, o comunque tante persone nel mondo del digital marketing, il primo, la prima applicazione di AI basata sulle immagini era appunto basata su Vertex di Google, sul sistema di generazione delle immagini appunto di Google. Quindi due mondi diversi. La direzione quella di Google quindi, che è importante ricordarla per approcciarci poi a tutto quello che è l'internet marketing, è quella di un AI per tutti, cioè qualsiasi azienda, ovvero accessibile a chiunque. Questa è la direzione, quella che ha consentito a tante aziende, anche a varie banche, eccetera, eccetera, di applicare immediatamente le AI sui propri dati in cloud, in modo sicuro. L'altra piccola direzione che Google ha preso, perché ricordiamoci che Google ha tutto un suo ecosistema molto importante, è quella di lanciare il proprio chatbot, quindi BARD, conosciutissimo oramai nel mercato, BARD che è disponibile all'indirizzo bard.google.com, che mostra un'altra direzione dell'azienda di Mountain View, ovvero la direzione, in questo caso, per gli utenti, di darla in mano agli utenti. Accessibile in un primo momento solo negli Stati Uniti, poi rilasciata in Europa, ma con molte funzionalità che prima vengono rilasciate negli Stati Uniti e poi vengono rilasciate da noi. Ultima, la generazione delle immagini direttamente su BARD, BARD attualmente è evidentemente indietro rispetto al GPT-4, quindi al sistema che sta sotto, cioè GPT. Tutto il mondo delle persone che seguono l'AI stanno aspettando che Google aggiorni i suoi sistemi con l'ultimo modello di intelligenza artificiale che si chiama Gemini, che pare essere davvero molto più potente. Secondo alcune release, alcune fonti non ufficiali, addirittura è cinque volte più potente di GPT-4, però ricordiamo che sono cose non testabili, quindi bisogna fidarsi di quelle che sono i rumors, eccetera, eccetera. Ormai non ci fidiamo più, quindi fin quando non vedremo con mano, non siamo in grado di stabilire. La cosa vera, e che tutti noi sappiamo, è che fino a quando non avremo la possibilità di testare Gemini, possiamo dire che BARD è totalmente indietro rispetto al GPT. Dov'è però la differenza tra il sistema GPT e BARD? Perché c'è una differenza di fondo. Da un lato abbiamo OpenAI con BARD, con CACPT, che ha aperto negli ultimi mesi ad una serie di cose molto importanti e che finalmente sono disponibili, nella versione a pagamento però, che sono tutta la possibilità di utilizzare i plugin, la possibilità di utilizzare il web browsing, che è molto interessante, la possibilità di usare DALLI per la generazione delle immagini, e poi altre possibilità per il codice. A questo punto chiedo un attimo dalla regia di mostrare velocemente lo schermo, giusto per darci una regolata su GPT-4, vedete il modello Plus, faccio uno zoom che si vede ancora meglio, ci dà la possibilità di avere il default, quindi abbiamo il default con GPT-4, oppure fare un browsing di internet, andando a fare una richiesta, ora ve lo faccio vedere, poi l'Advanced Data Analysis, che ci consente di fare delle analisi avanzate sui dati, i plugin e DALLI, DALLI con la generazione delle immagini. Andiamo a fare un attimo il browse con Bing, chiediamo, giusto così vi faccio vedere un po' quelle che sono le differenze, e ci capiamo su quella che è la direzione di Google, andiamo a chiedere cosa ha fatto la Juventus, così la chat impazzisce, nell'ultima partita. Ok, mentre ha GPT con il web browsing, va ad avviare la navigazione con Bing, ora vedrete che farà una query su Bing, ecco Juventus' ultima partita, il risultato va su Bing, io apro BARD e vado a chiedere, si usa la posizione esatta, la stessa, lo stesso prompt, ok? Giusto per farvi vedere che cosa sta per succedere, consento di usare la posizione. Ok, allora andiamo a vedere che cosa succede, e qual è la considerazione dei due sistemi. ChatGPT, come potete vedere, con il web browsing è molto preciso, grazie alla query su Google, va a identificare immediatamente quella che è la risposta, in questo caso esatta. Attenzione che non abbiamo un fact check, cioè non sappiamo effettivamente se è vero o no, dovremmo fare la ricerca su Bing, andare poi sul sito, andare in giro, eccetera, eccetera, e verificare. In questo caso vedete che ChatGPT in modo molto, molto corretto, mi mette le fonti, e io posso andare a cliccare per vedere quello che è giusto. Ovviamente conosco quello che sta succedendo ed è corretto. Mentre Bard, che ha un modello, dal mio punto di vista precedente, sbaglia, nonostante trova che ha battuto il Milan per 1-0, cioè è giusto, ma si riferisce alla partita sbagliata. Qual è la cosa interessante in questo caso di Bard che stanno per fare e che vediamo solo attualmente se andiamo a fare una ricerca un po' più specifica da questo punto di vista, che è in America, se io vado sulla G, mi dice quelli che sono i risultati corretti o quelli che sono i risultati non corretti, cioè mi fa il fact check direttamente. Quindi tutti noi stiamo aspettando quello che è l'upgrade di Bard con Gemini sotto, perché sappiamo quanto, ovviamente, sono affidabili i risultati di ricerca in questo caso. Proviamo a dirgli che ha sbagliato. Ci dispiace, hai sbagliato, hai sbagliato, ha segnato Locatelli. Vediamo cosa succede. Ora, se io vado a spostare, vediamo, sì, la formazione è sbagliata, lui mi ha rivisto il dato, ma sbaglia completamente, no? Ok, questo non posso andare a farlo. Vediamo se riesco a farvi vedere direttamente da Firefox. Vediamo, eh. cosa volevo farvi vedere, perché attualmente Bard è basato su un modello di linguaggio vecchio. Andiamo a vedere se ora che è Bard è in lingua inglese. Io vedo, online c'è lo schermo, giusto Stefano? Sì. Ok, perché qui è saltato l'HDMI e non vedo. Allora, ora ho messo Bard in lingua inglese. Vi metto e vediamo se riesco a farvi vedere l'opzione che vi dicevo. Così andiamo sulla direzione di Google. Prompt, cosa ha fatto la Juventus nell'ultima partita? Ok. Poi ho caricato anche altre cose. Eccolo qua. Sbaglia di nuovo. Qui mi fa la ricerca, non mi dà nessun fact check. Vediamo se me lo rimostra in quello di ieri. Eccolo qua. Double check response. Non lo fa sempre. Quindi in questa che ho fatto, forse perché ho fatto il prompt in italiano. what Juventus did o vediamo se glielo faccio in inglese. Did in the last match. Proviamo a fare questa prova, vediamo se mi mostra il double check del fact checking. Vediamo eh. Ah, addirittura in inglese riesce a darmi la risposta corretta, mentre in italiano non riesce. questa è una buona indicazione di come funziona. Double check response. Io clicco, mi fa una ricerca su Google, mentre io clicco, mi fa la valutazione e in questo caso me li mette tutti in verde perché è sicuro e mi dà la fonte. Mi dice dove ha trovato questo risultato. Se non è sicuro me lo mette in giallo. Ora, questo è un esempio molto interessante di quelle che sono le ultime novità di Bard perché Bard sta andando in un'altra direzione rispetto a CiaGPT. Ora, la approfondiamo. Allora, qual è la direzione di Bard ed è importante capirlo per poi andare a comprendere che cos'è che noi come SEO e come marketers andiamo a fare. La direzione di Bard è una direzione basata sui plugin come abbiamo la stessa di CiaGPT, basata su Google come motore di ricerca che è come fa CiaGPT con Bing. Ovviamente Google è più avanti sulla ricerca, ma la vera considerazione interessante di Bard rispetto a CiaGPT è che Bard incomincia ad essere integrato con tutte le nostre cose, con tutte le nostre informazioni. Ecco dove potrebbe essere l'utilità di utilizzare quando sarà aggiornato perché ad oggi non è all'altezza dal mio punto di vista, perché riuscirà e riesce già ad accedere in lingua inglese a tutti quelli che sono i miei dati, quindi a tutta la suite di Google e a tutte le informazioni come la posizione geografica. In questo caso vedete che mi ha riconosciuto che sono a Bologna. Quindi la personalizzazione. Questi due grandi rami, personalizzazione e propri dati, sono veramente molto interessanti. Io ora non lo faccio, però potrei chiedere a Bard di andare nelle mie mail Gmail del 2010 e chiedere di farmi la lista con il link di tutte le mail che Cosmano Lombardo mi ha inviato in quella data dove nell'oggetto c'è scritto quella determinata parola. È un esempio molto stupido in realtà di cose che possiamo fare anche con la ricerca avanzata di Gmail ma da lì poi possiamo fare altre operazioni perché la grande forza di Bard è che si aggancia a tutto l'ecosistema quindi io posso andare a effettuare quella che è a tutti gli effetti una ricerca su Bard e poi tentare di portare quelli che sono i risultati che ottengo nell'ecosistema di Google ad esempio su Spreadsheet in automatico o se genero l'immagine me la posso portare su Presentation quindi una è la direzione delle cose dell'ecosistema di Google e l'altra è la direzione personal così come nella ricerca che noi utilizziamo il motore di ricerca perché ci geolocalizza perché ha tutte le nostre cose nei prossimi anni questa è una direzione molto interessante le ricerche personalizzate saranno molto più forti di quelle di oggi ci sono già veri esperimenti in corso però la direzione di Google tra un po' vi mostro una serie di cose abbastanza innovative che è giusto per farvele vedere sarà quella di avere un motore di ricerca sempre più personalizzato addirittura andremo a mettere quelli che sono i nostri stili pensiamo alla moda come mi vesto per ottenere dei suggerimenti su acquisti o addirittura lo sport che tipo di sport faccio che tipi di risultati ottengo perché posso dare tutte le impostazioni e quindi farmi avere dei suggerimenti su quale scarpa da running dovrei avere quindi questi due mondi la personalizzazione su di noi e l'ecosistema di Google lo rendono a tutti gli effetti per una fascia di persone molto più interessante di chat GPT perché questo? è un po' come le tantissime persone che vanno a utilizzare l'iPhone perché si trova nell'ecosistema Apple tutti quelli che hanno un Macbook un Mac eccetera eccetera probabilmente andranno ad utilizzare un iPhone un po' come tutti quelli che si comprano dei sistemi operativi Android per usare le app di Google si va a creare un po' quella dinamica che secondo me è interessante ed è da tenere in considerazione quindi questa è la direzione diciamo più o meno interessante di Bard almeno per quella che è la ricerca ma perché stiamo parlando così tanto di Bard visto che è un sistema comunque diciamo abbastanza indietro rispetto a chat GPT ne stiamo parlando perché sta per essere integrato in tutto quella che è la ricerca di Google il sistema di testing di quella che viene chiamata la search generative experience che ora vi mostro le immagini per chi non l'ha mai vista si basa su Bard e si basa sulla ricerca di Google quindi miliardi di persone l'andranno ad utilizzare ci chiede Aldo se ha GPT e Bard imparano dagli errori sicuramente imparano dagli errori senza alcun dubbio in che modo lo riescono a fare questo non lo sappiamo però una volta che noi almeno il test che ho effettuato una volta che ho chiesto delle informazioni vengono memorizzate poi ci possono leggere le FAQ però da quello che ho visto io le informazioni vengono memorizzate allora Bard abbiamo detto quindi da un punto di vista di direzione Google ne prende due prende la parte aziendale con Vertex per consentire a tutte le aziende da usarla e la parte con Bard per gli utenti dov'è che va a finire Bard e dov'è che noi come persone che effettuano questo lavoro dobbiamo fare attenzione no? dobbiamo fare attenzione a quella che viene chiamata vediamo se riesco a mostrarvi lo schermo la ricerca generativa ok search generative experience vi mostro brevemente il video più che altro lo screenshot del video eccolo qua ve lo ingrandisco un attimo si vede a posto ok è una ricerca che genera in automatico una risposta in stile quasi Wikipedia per alcune cose ed è un assistente penso che ormai lo abbiate visto tutti che è dentro la ricerca quindi la cosa molto interessante è che viene usato da miliardi di persone ci sono però delle cose poco interessanti per noi ovvero come cambia da questo punto di vista non tanto l'approccio nostro perché questo dovrà cambiare e cambierà col tempo e con la consapevolezza e con la formazione che ognuno poi riuscirà a fare però la cosa molto interessante sono le prime indagini ipotesi ragionamenti su quello che potrebbe essere il cambiamento da parte delle persone in approccio all'uso del motore di ricerca c'è in particolare una ricerca che è Defined azienda italiana che da anni effettua davvero tante ricerche che andrebbe ringraziata sempre per l'impegno nella divulgazione tra l'altro questo link è pubblico quindi Marco Loguercio che è il fondatore l'ha inserita su LinkedIn e ha messo questo link pubblico senza bisogno di lasciare l'email una scelta veramente coraggiosa e veramente in linea con tutto quello che anche noi divulghiamo come principi e come fattori quindi complimenti la cosa interessante di tutto il paper ha fatto un sacco di cose interessanti però ve lo mostro è questo che tipo di impatto potrebbe avere il click through rate sulle posizioni attualmente in Google quindi noi sappiamo che la prima posizione di solito prende un 17% di click di media poi c'è chi ne prende il 40 chi il 60 e chi non ne prende neanche il 5 ma la cosa interessante è la forbice che Marco ci sottolinea tra il click through rate ottimista e il click through rate pessimista nel caso in cui venisse attivata la search generative experience quella che vi mostravo prima bene la prima posizione nella migliore delle ipotesi passa dal 17% al 12 mentre la modo pessimistico al 6 quindi c'è un click through rate che si abbassa tantissimo con questa nuova experience di Google e c'è da riflettere perché nella analisi nel white paper che Marco e Feind hanno condiviso con noi ci sono anche degli spaccati di mercato molto interessanti questi sono l'abbigliamento dove Marco e Feind ci dicono dove la search generative experience viene mostrata in maniera opzionale ovvero l'utente che la va ad attivare oppure completa cioè è già pronta evidenza è una cosa importante ovvero che solo per la ricerca brand esatto la generativa è un'opzione cioè solo se io cerco Coca-Cola solo se io cerco Max Barra mi vado a ritrovare la possibilità di attivarla ma se io cerco cappotti Max Mara quindi brand e prodotto la generative è già attiva almeno questi sono i test che sono condotti negli Stati Uniti e che sono condotti a campione dall'agenzia di barco che sono andati a estrapolare questo diventa molto interessante perché attivare di default questo tipo di esperienza per la ricerca brand più prodotto ha delle complicanze da un punto di vista di marketing pensate voi quanto diventa molto molto importante andare a lavorare sulla comunicazione andare a lavorare nei dettagli su come vanno descritti i prodotti ad esempio quindi è un aspetto che diventa sempre più rilevante quello di controllare tutti i touch point dell'utente e controllare come usciamo nei risultati di ricerca perché le esperienze che Google ci sta proponendo o che ci propone chat GPT sono delle esperienze di una fase di ricerca che tra un po' approfondiamo esclusive cioè che significa significa che escludono tutto il rumore per evidenziare la cosa più importante quindi significa che se io vado a selezionare una query brand più prodotto il risultato sarà dimostrarmi pochissimi prodotti in compenso rispetto all'ampio catalogo che ha un brand e questo è un aspetto molto importante nel marketing così come se andiamo a chiedere a quei sistemi qual è la persona più importante in un settore in un determinato mercato ci risponderà con un solo nome mentre se lo chiediamo a un motore di ricerca ci risponderà con tutta una serie di articoli e diventa molto importante vi faccio fare questa prova giusto per farvi vedere qual è l'approccio su chat GPT e chiedere secondo te in Italia chi è la persona di riferimento nella SEO apriamo Google invece motore di ricerca classico intanto che ha GPT ci risponde e facciamo una ricerca di questo tipo guardate quanta diversità abbiamo nei risultati di ricerca se io vado a fare una richiesta di questo tipo qua ora ce l'ho impostato sul browser quindi va a fare il browser vi apro chat GPT anche senza il browser così andiamo a prendere il default e chiediamo la stessa domanda che abbiamo fatto a Google perché questo ha un impatto sul nostro mondo sul mondo della ricerca molto devastante da questo punto di via di vista ecco che ci dà una serie ora gli chiediamo qual è il primo questo ha GPT senza ok vediamo cosa ci dice Google non ci dà dei nomi immediatamente vedete ci dà tutta una serie di siti che si posizionano addirittura pian piano ci offre una ricerca con cose che incominciano a non centrare niente per allargare quella che è la visione ok andiamo qui vedete ci danno una serie di nomi cambia questa roba ok vediamo con web browsing con invece la 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 senza web browsing ce ne mostra ancora di meno ok questo è un aspetto molto interessante immaginatelo sui prodotti che cosa avviene anche in fase di generazione della risposta da parte di Google quando attiverà quel tipo di risposta nei suoi risultati di ricerca è devastante da questo punto di vista vedere come cambieranno perché cambieranno anche le domande che facciamo quindi se andiamo a vedere un altro settore ora vi vado a prendere un altro settore che Find ha messo in rilievo eccolo qua la bellezza cambia addirittura l'opzionale c'è per le ricerche brand quindi questa roba incomincia a diventare davvero molto molto importante per noi perché purtroppo non c'è e non ci sarà mai una checklist di cose da seguire cioè se voi gestite un cliente o avete un progetto nel mondo beauty o avete un cliente nel mondo fashion sono due cose completamente differenti e bisogna andare a mappare quelle che sono le keyword più importanti e capire su Google che cos'è che sta uscendo in quel momento perché a secondo di cosa esce noi dobbiamo rispondere la search generative experience ci costringerà a fare questa verifica cosa che chi fa SEO ad alto livello fa sempre chi fa SEO ad alto livello dice sempre attenzione vanno bene gli strumenti se o zoom è uno strumento fantastico ma bisogna guardare cosa ci dicono i motori di ricerca cosa ci dice la pagina dei risultati di ricerca perché è solo lì che andiamo a imparare come si sta rispondendo è solo attraverso come si sta rispondendo che noi riusciamo ad avere delle indicazioni per creare una strategia per arrivare là perché per ogni chiave per ogni ricerca c'è una strategia differente quindi se prima della search generative experience di Google questa operazione potevamo dire che ce la mettavamo in pochi ovvero quello di andare a guardare cosa che Google ci offre ora è obbligatorio perché il CTR è così tanto in basso è perché la selezione delle migliori cose è così tanto importante che noi non possiamo più permetterci di ignorare lo sguardo direttamente nei risultati di un qualsiasi motore di ricerca e ora facciamo un passo in più così ci togliamo questa parola motore di ricerca che non ci piace più e andare a fare appunto un passo in più qual è questo passo in più che noi dobbiamo fare come mentalità e come approccio a tutto il mondo che non solo sta per arrivare in alcuni paesi ma in altri è già arrivato quindi questo dell'AI l'AI ci costringe a fare un passo indietro per tentare di capire tutto quello che sta arrivando e un passo in avanti per tentare di capire come reagire a questo passo intanto non so se c'è una domanda prima che parto con vediamo ricarico la chat per vedere se c'è qualche domanda o se qualcuno ah se posso condividere il link di find ma certo che posso condividere il link di find vi metterà come referral relevant che è un blog dove poi comunque ne parlo vi parlo anche di questa cosa che è molto importante è il blog del un piccolo magazine che abbiamo noi in search on in search on media group che è curato da tutto il team di search on consulting che andiamo ad aggiornare con le cose molto molto importanti da un punto di vista nostro ciao Alessandro quindi Alessandra Bartali ti ho messo in chat il link ok vediamo se ci sono domande così vi spiego qual è il passo indietro che dobbiamo fare e qual è il passo in avanti che bisogna fare ok allora qual è il passo indietro che dobbiamo fare nel paper di Marco di Marco Loguerci di find lui a un certo punto mostra questo non so perfetto questo qua che cos'è che è questa cosa è una categorizzazione che il team di find ha fatto sulla tipologia di ricerca molto interessante no perché perché quando si lavora in questo caso specifico per l'e-commerce si categorizzano le tipologie di query per vedere cosa accade ci sono strategie diverse per la chiave brand nome prodotto rispetto a nome prodotto o rispetto al servizio o la categoria o il prodotto stesso quindi si categorizzano anche per trovare dei pattern di cose da fare e questo va bene ma noi dobbiamo sapere che Google ha una sua categorizzazione di query anche quindi Google nelle famose linee guida dei quality reader dice sostanzialmente guardate che le persone quando cercano cercano cose diverse fra di loro quindi una cosa è una quando la persona cerca un'informazione la chiamano query informazionale e un'altra è quando la persona cerca un servizio o un prodotto la chiamano query commerciale sono due query diverse e Google risponde con due modi diversi nella query informazionale ci offre delle risposte nella query commerciale non ci offre solo delle risposte ci offre dei prodotti che possiamo comprare diverso no? quindi il passo indietro che tutti noi dobbiamo andare a realizzare è quello di comprendere perché cerchiamo proprio come esseri umani la ricerca e questo è un equivoco per questo non mi piace più la parola motore di ricerca io sostengo che da almeno cinque anni non esiste più il motore di ricerca Google non è più un motore di ricerca chi mi conosce e mi segue da tanto tempo sa che lo considero un ecosistema un ecosistema liquido ho scritto anche un libro su questo Google liquido si chiama per spiegare che le persone le nuove generazioni quando aprono lo smartphone non hanno Google il motore di ricerca hanno Google l'ecosistema perché oltre alla possibilità di effettuare una ricerca sì tu puoi andare a cercare con lens o attivare il microfono per fare delle azioni no? in una versione ve la mostro in test questa è la mia newsletter proprio l'ultima edizione che è uscita ieri c'è un test in America che addirittura alcuni utenti mi hanno scritto per dirmi Giorgio lo vedo anche in Italia qualcuno lo vede in Italia vado in basso eccolo qua la nuova home di Google da desktop non è un motore di ricerca questo evidentemente non lo è il prodotto cambia Google qui ha la possibilità di cercare tramite un testo la possibilità di cercare tramite lens che non è solo ricerca attenzione lens è anche traduzione di testi la possibilità di attivare il microfono che attenzione non è ricerca vocale è la possibilità anche di fare azioni io posso cliccare e dirgli manda un messaggio whatsapp a Cosmano per esempio e poi sotto discover quello è Google discover le news basate sui miei interessi quindi Google è da mo' che non è più un motore di ricerca non so come chiamarlo esattamente io sto ragionando tanto su questa nuova concezione della ricerca umana e mi piace almeno nelle ultime ore mentre dormivo mentre ho pubblicato l'ultima fast letter ragionare sulla parola assistant sulla parola assistente di ricerca perché il motore ci dà la questione proprio pulsante di essere un qualcosa dove noi facciamo un'azione andiamo a chiedere qualcosa e lui ci risponde soprattutto testualmente siamo abituati mentre l'assistente di ricerca che mi piace di più devo dirvi la verità che è più in linea con quello che vuole diventare Google mi dà anche delle cose che sto cercando senza mettere input come discover ma mi consente di ampliare l'orizzonte e la semantica della parola ricerca perché la parola ricerca ad oggi è legata soprattutto a non ho qualcosa voglio scoprirla attraverso un sito internet ma in realtà non è così se io apro facciamo un esempio il mio software di editing video ok e non mi ricordo come si fa una determinata azione ad oggi io come essere umano mi attivo e dico devo cercare come si fa giusto? siamo tutti d'accordo su questo quindi apro un servizio di ricerca testuale e metto delle parole chiave oppure apro YouTube e metto delle parole chiave e gli dico uso Filmora non mi ricordo come si fa questa cosa Google mi risponde con dei tutorial testuali probabilmente con anche dei video YouTube prettamente video ma la mia fase umana di ricerca sarebbe ben diversa se dentro Filmora io avessi l'assistente basato sull'AI perché non andrei fuori da Filmora la mia fase di ricerca umana sarebbe differente aprirei direttamente il mio assistente e gli chiederei come si fa e probabilmente me lo farebbe lui al posto mio quindi attenzione perché questa è una ricerca che non passa attraverso il motore di ricerca e la ricerca classica nella newsletter che ho fatto ho fatto un esempio molto pratico di questo perché a livello sociologico la tecnologia e anche a livello umano è qualsiasi cosa qualsiasi strumento che noi utilizziamo la pietra è una tecnologia che abbiamo usato per cacciare poi l'abbiamo usata per disegnare diciamo degli esempi in Italia 3.000 anni fa 2.500 anni fa ci sono delle mappe disegnate con la pietra e nella pietra per aiutare gli abitanti del posto i nostri antenati a trovare i sentieri a trovare dove erano i campi coltivati la pietra come primo strumento Google Maps ci fa fare la stessa cosa quindi la tecnologia no che noi andiamo a utilizzare è molto importante ma la fase di ricerca non è una fase di ricerca che è avvenuta con internet è esplosa con internet ma l'essere umano è di per sé sempre in cammino verso una ricerca che sia una ricerca di qualcosa che non sa o che sia una ricerca di qualcosa che sa e non sa più dove si trova o che sia una ricerca come dicevano i greci e l'oracolo di Delphi una ricerca verso se stessi quindi la ricerca come attività umana è ampia ma perché questo preambolo per chi fa questo mestiere è importante capirlo perché dietro una ricerca c'è un essere umano e dietro una ricerca c'è un bisogno Google lo sa benissimo e infatti ha detto che quando le persone cercano o vogliono delle informazioni ricerca informazionale o vogliono dei prodotti e servizi ricerca commerciale poi nel tempo abbiamo imparato è questo il grande switch mentale che io personalmente mi sto impegnando da fare da molti anni e che in tutti i miei interventi andrò a fare da qui a per sempre fino a quando non sarà chiaro e in qualsiasi luogo per cercare di uniformare comunque una cultura generale la ricerca non è solo quella su Google ovvero dopo la informazionale la commerciale che Google ci ha presentato è arrivata alla navigazionale ovvero Google ci ha detto le persone usano Google usano il motore di ricerca per andare su altri siti le persone usano Google per andare in un luogo ricerca di movimento io sto cercando su Google Maps un bar per andare a prendere il caffè cercherò appena finiamo questa lezione che vorrei che non finisse mai qui alla ruba business andrò a cercare un posto dove fare un aperitivo aprirò Maps una ricerca di movimento negli ultimi anni sono esplose altre tipologie di ricerche alcune sono passate tramite il motore di ricerca altre no non sono passate attraverso il motore di ricerca relativo alla chat per capire se avete intanto delle domande ok vedo le vostre considerazioni per esempio ve ne faccio tre molto importanti una fase di ricerca dell'essere umano che esplosa dal 2006 in poi sono gli aspetti sociali l'essere umano che va alla ricerca di che cosa di relazioni di connessioni attraverso internet attenzione perché uno potrebbe dire no non è la stessa cosa e invece lo è è una ricerca diversa di connessione in luoghi diversi Facebook lo abbiamo usato per connetterci con i nostri amici LinkedIn per il mondo professionale è proprio una ricerca di connessione importante ma all'interno dei social abbiamo anche le connessioni alle tematiche ovvero a un certo punto non ci è bastato più connetterci ai nostri amici ma ai temi di interesse questo è un aspetto molto importante da tenere in considerazione quindi la ricerca dell'essere umano si è espansa e ha aggiunto l'aspetto sociale pensate voi Google sempre concentrato sulle ricerche del motore di ricerca a dichiarazione del suo amministratore delegato Eric Schmidt disse quando lui si dimise quando lui fece dieci anni in Google mi pento di una cosa sola nel mio mandato di questi dieci anni a Google non essere riuscito a capire che i social sarebbero esplosi perché perché la ricerca sociale non passava tramite Google e lui non sapeva come misurarla pensate voi e gli è sfuggita ma per fortuna hanno acquisito YouTube da un lato e dall'altro hanno lanciato Discover capite l'importanza della nuova home capite l'importanza nella home da desktop di mettere Discover quella parte sociale che Google si è persa negli anni e che sta riconquistando con YouTube e Discover e con Discover è forse il canale più sottovalutato nell'internet marketing e nel se dovessimo fare una mappa del mondo dell'internet marketing a un certo punto e dovessimo farla come quella nostra del nostro mondo a un certo punto al posto dell'Africa uscirebbe Discover e la maggior parte delle persone guarderebbe e diceva ma che cos'è quella cosa lì che non me ne sono mai accorta è Discover che porta un botto di traffico e che nessuno riesce a capire né come funziona addirittura non riescono a capire che cos'è da dove arriva perché nel traffico dati in analytics in YouTube perché sono esplosi anche i video non c'è Discover non si trova e quindi i marketer sono spiazzati non riescono a quantificarlo ma Discover porta 10-15 volte il traffico di Google News è esploso porta una marea di traffico penso che più della metà delle visualizzazioni dei video che ho ottenuto nell'ultimo mese vengono da Discover e ne ho ricevute quasi 100.000 quindi è tantissimo il traffico che Google Discover ci sta mandando quella è la cosa sociale sociale con le persone ma con YouTube e con Discover con gli interessi con le tematiche quelle importanti quindi eccolo perché lo mette in home ecco perché Google sta facendo questa cosa ma altre due tipologie di ricerca sono nate in questi ultimi anni quella ispirazionale quella ispirazionale è un po' complessa perché Google ha tentato di prenderla con i suoi risultati di ricerca ma non c'è riuscita benissimo chi è che ha portato la ricerca ispirazionale su internet TikTok TikTok ha portato una ricerca prettamente ispirazionale che sposta il mondo sposta all'offline andiamo nei ristoranti consigliati da TikTok andiamo negli aperitivi consigliati da TikTok compriamo robe prodotti il make up qualsiasi prodotto tecnologico viene dai social ispirazionali TikTok è molto vantaggioso da questo punto di vista ovviamente Google ha YouTube che sulla questione dei video brevi fa un traffico pauroso ma comunque insegue se dovete fare dei video brevi le piattaforme migliori ad oggi sono in questo ordine TikTok YouTube Shorts Reels sono in questo ordine qua poi a seconda dei settori cambiano però sono queste a livello macro ma YouTube con tutto quello che c'ha i video on demand le live eccetera eccetera è leader di un mondo che non si ignora più un mondo che è talmente tanto grande che è una parte di internet totalmente diversa da questo punto di vista per fare un esempio è leader nelle live i numeri delle live che fa YouTube non le fa nessuno al mondo quindi molto interessante come ambiente l'ispirazionale viene da TikTok però e poi abbiamo l'ultimo secondo me l'ispirazionale cioè se dovessimo andare a metterli cronologicamente come l'impatto che internet ha avuto negli ultimi da quando è nata 2006 è nata la questione dei social poi la questione dei social si è incominciata a dividere tra richieste sociali di connessione legate a persone a richieste di connessione legate ai temi quindi in circa 2006 in 15 anni possiamo dire si è evoluta questa cosa poi è arrivata l'ispirazionale che è stata una forma grossissima e poi è arrivata un'altra tipologia che è quella risolutiva di soluzioni ricerca di soluzioni ricerca assistenziale per questo prima ho detto assistente di ricerca assistente in fase di ricerca perché è questo perché la i generativa è quella che ci va a dare davvero una risposta alle soluzioni nelle ricerche generative che stiamo vedendo le persone non iniziano e non la usano per chiedere informazioni generiche ma la usano per risolvere un problema concreto perché sanno che andando sulla parte di ricerca classica che c'è in giro su internet ti viene il mal di testa perché non trovi più delle informazioni ma non perché non ci sono non perché sono nascoste ma perché la nostra esperienza questo è importante da focalizzare la nostra esperienza è diversa siamo cresciuti siamo diventati bravissimi ora gli strumenti li conosciamo talmente tanto bene che a noi di avere i tutorial non ce ne frega più niente noi vogliamo sapere quella cosa specifica come si fa quindi siamo alla ricerca di una soluzione e nella ricerca alla soluzione non è che Google è stata ferma perché Google di cose alla ricerca alle soluzioni ne ha fatte tante per esempio quando cerchiamo qualcosa che fa parte di un video Google ci mette guarda che questa cosa che stai cercando la trovi in modo specifico in questo video da YouTube non c'è bisogno che lo guardi tutto dal minuto 2.30 al minuto 3.10 trovi la tua soluzione quindi è andato in questa direzione nell'assistenziale con l'assistant è andato nella direzione di farci fare delle azioni ma quello che serve oggi agli esseri umani è un assistente più personale ancora per questo la e-generativa per quanto riguarda questa parte ovviamente la e-generativa fa fare miliardi di altre cose in più questo che sia chiaro per questo si è andato in questa direzione per questo chat GPT sta esplodendo per questo Google sta tentando di correre ai ripari perché è una fase di ricerca dell'essere umano questo è importante da focalizzare ora in tutto questo poi leggo qualche domanda se ne avete mettetele in chat cominciate a metterle che io poi vi rispondo in tutto questo avremo dei cambiamenti molto importanti nel modo in cui noi ci approcciamo ovviamente a che cosa? al marketing e soprattutto e qui vengo al punto al content marketing perché sarà da qui che passiamo cioè tutto quello che stiamo per vedere e che impareremo a fare nei prossimi anni passa dal content marketing e da una piccola parte tecnica che tra un po' vi spiego però prima fatemi leggere cosa avete scritto in chat e se volete continuate a metterle allora va bene i link poi li avete messi tra di voi quindi sono molto contento grazie a chi ha messo poi il link anche noi abbiamo messo più volte la chiamerei dashboard mi dice Aldo sì il termine non mi piace perché però se ne parerà per i prossimi anni non penso che saremo noi a definire che cos'è perché dashboard mi dà l'idea appunto di un qualcosa che puoi andare a cliccare a selezionare a fare in realtà qui è proprio un assistant cioè proprio e andrà ad aumentare quella che è la nostra capacità umana per questo vorrei trovare una parola più vicina all'essere umano il maggiordomo è l'idea alla quale mi ispiro per cercare di fare questa ricerca il ritorno del portale no Alessandra perché siamo troppo è vecchia questa roba per questo non usiamo un portale anche se somiglia ma non è un portale quello è chiaramente un ecosistema quello che Google sta tentando di creare ok ci sarà un approfondimento se ho su Discover allora Enrico non qui nella Digital School di Aruba Business le puntate le prossime lezioni saranno su altri argomenti però se vai sul mio canale fast forward hai la possibilità anzi forse riesco a mostrarlo un attimo di fare una ricerca te lo mostro allora your channel chiudo qui allora in basso qui a destra in alto a destra i search se tu qui metti Discover vedi tutti i video che io ho fatto su Discover e anche se sono video vecchi in realtà sono tutte cose molto molto utili la cosa il video per me più interessante in assoluto è questo come potrebbe funzionare l'algoritmo di Google Discover se vuoi farti un'infarinatura ti consiglio quindi di guardare questo questo video qua e poi Google Discover strategie tecniche e consigli le altre sì la piramide SEO di Discover ti può andare bene io tento di tenterò di aggiornare con un contributo unico nei prossimi mesi questa roba qui su fast forward ma non sono sicuro di riuscirci ok ritorno alla chat ok poi cosa puoi dire su Twitch prima di passare alla considerazione finale ok cosa puoi dire su Twitch sempre Alessandra allora io l'ho provato Twitch perché poi mi piace quando parlo avere cognizione di causa no soprattutto quando si tratta di fare affermazioni forti credo che sia giusto che ogni persona possa esprimere le proprie opinioni ma che sia dovere da parte di chi fa divulgazione tentare di fare un passo in più nelle proprie opinioni certo ci sono persone che hanno tanti anni di esperienza che riescono ad avere un'opinione anche senza avere esperienza questo succede e poi è importante comunque dare le opinioni entrare nel dibattito non sono della parrocchia di quelle persone che scrivono dovresti parlare solo di quello che sai non sono di quella parrocchia lì perché questa frase è un ossimoro cioè dovresti parlare solo di quello che sai è un'affermazione no e che cos'è che dice questa affermazione dice che tu come essere umano dovresti esprimerti solo quando sai veramente qualcosa quando sai la persona che lo dice quando l'hai compreso no eccetera quando hai fatto esperienza eccetera eccetera ma noi non sappiamo gli effetti sull'umanità di questa cosa lo lo può intuire lo può studiare solo chi fa sociologia ad esempio quindi la persona che afferma dovresti parlare solo di quello che sai si sta praticamente auto escludendo dalla conversazione perché sta parlando di qualcosa che non sa è uno simone in sostanza quindi non sono di questa parrocchia io Twitch però l'ho usato perché volevo fare una grande esperienza quindi l'ho usato per un anno e per me Twitch va bene solo per il gaming e ho anche i miei dubbi nel senso che lo reputo un progetto di per sé abbastanza morto se non in creator che hanno già un audience molto grande ma non perché non funziona come sistema ma perché alla base del sistema di Twitch c'è innanzitutto la considerazione di che se vuoi avere successo devi usarlo sempre cioè se smetti di fare Twitch non hai dei grandi vantaggi anzi quindi ti porta al burnout ti porta ad un impegno emotivo e fisico molto molto forte gli abbonamenti di Twitch quelli più famosi e quelli più usati dalla community sono tramite Prime quindi tramite l'abbonamento ad Amazon che fa quello che vuole può decidere di toglierlo può abbassarlo quindi da un punto di vista anche economico è anticonveniente utilizzarlo io ho assistito e ho assistito anche vari creator a passare da Twitch a YouTube con degli incrementi economici importanti sugli abbonamenti perché gli abbonamenti di YouTube sono solo tramite carta di credito e con rinnovo automatico mentre il Prime devi essere tuo a rinnovare quindi quando arriva agosto la mazzata per i creator è devastante su Twitch e la discovery di Twitch non è la discovery di YouTube se su YouTube finisci nelle tendenze le persone in live aumentano all'improvviso e il tuo pubblico può crescere mentre su Twitch devi tentare di fare lo shock devi fare insomma devi fare qualcosa di diverso quindi per questo credo che Twitch non sia il miglior sistema per chi fa divulgazione o per chi fa un determinato tipo di progettualità nelle live almeno questo è il mio parere dopo un anno che ho provato Twitch e ho usato solo in esclusiva Twitch rispetto a YouTube quindi ho provato tutto il sistema di tutto quello che poteva essere probabile allora altre domande Francesco ma questo sistema non porta Google verso l'implosione allora in questo caso Francesco si riferisce in modo particolare alla search generative experience che sembra togliere i link in realtà no non toglie propriamente i link ci sono in basso e ci sono in alto i link li mette sempre perché lo hanno dichiarato sono molto importanti e io credo che però la considerazione di Francesco sia sul tavolo nonostante le rassicurazioni di Google quante volte Google ha rassicurato e poi non è successo quindi datenele in considerazione questa cosa che dice Francesco e poi l'altra cosa che Francesco non dice ma che ovviamente è implicita è che se non conviene più produrre contenuti le persone produrranno meno contenuti e come fa la AI a generare i contenuti se non li ha originali è l'altro grande tema dell'intelligenza artificiale generativa che stiamo affrontando quindi per me non è così come dice Francesco ma ad oggi non sono sicuro non sono così netto nell'opinione da questo punto di vista perché ci sono delle ripercussioni che noi non sappiamo come andrà a finire poi Silvia ma Duet AI di Google esatto Duet è un altro sistema allora è corretto quello che dice Silvia in chat però Duet AI è un altro sistema di Google che hanno creato ancora diverso da quello che hanno quindi tutto il mondo del marketing sta dicendo Google lei hai rotto un po' le scatole con Bard Gemini Duet Vertex Assistant troppe cose differenti no? fai in modo che ne hai uno in modo che sia chiaro per tutti però Bard si integra perfettamente in Google Workspace in tutto la roba di lavoro che noi andiamo a fare quindi è a tutti gli effetti un sistema interessante Duet è specifico quindi per oggi ad oggi non sappiamo esattamente diciamo che mentre Bard lo usi da bard.google.com e lo interroghi anche con altre cose di Google Duet lo usi specifico in Workspace quindi almeno queste sono le considerazioni ad oggi poi non lo sappiamo questo è un mondo talmente tanto veloce allora lui sa più che un portale è un portiere sì esattamente appunto mi piace molto la metafora del maggior domo ok poi come fai le AI se non le AI esatto ok allora come cambiano i servizi questa è un'altra domanda interessante che la fa a gusto beh allora entriamo nel mondo dei servizi che è un mondo davvero difficile da affrontare perché servizi è di tutto però con l'intelligenza artificiale generativa il processo con il quale eroghiamo i servizi cambierà innanzitutto cambiano le aspettative delle aziende quello che può cambiare è se andiamo a creare un processo funzionale cioè se andiamo davvero a integrare le AI nei processi del nostro servizio per far potenziare il servizio stesso questa è la grande sfida non è tanto la sfida nel diminuire l'effort umano perché questo è un tema molto complesso che da solo non sarei in grado ad affrontarlo serve un dibattito con più persone in tempo reale neanche la chat è il sistema giusto perché si aprono mondi infiniti se tocchiamo le risorse umane ma la questione dei servizi è che un servizio se è erogato correttamente se ha un piano di controllo ha un processo no? la content creation ha un processo andare a spacchettare quel tipo di processo è importante per renderci conto di dove l'AI può aiutarci nel processo di content creator ormai lo fa ovunque quindi quello che io consiglio a Augusto è di andare a spacchettare in modo sempre più preciso qual è il flusso quali sono i processi che si eseguono nel singolo servizio e capire dove possiamo inserire l'AI perché i servizi possono costare di meno ci sono varie considerazioni varie leve che uno può prendere uno è ridurre i costi e quindi ridurre anche il costo del servizio può succedere l'altro è fare più cose quindi aumentare a fronte di una diminuzione del costo del servizio aumentare la possibilità di prendere più clienti l'altro quindi prima direzione la seconda direzione è l'opposto l'aumento esponenziale del costo come si ottengono queste due cose la prima la riduzione la ottieni andando a ridurre l'effort umano e portando l'umano l'essere umano nella direzione di controller e creativo quindi spostare il lavoro come hanno fatto al Washington Post che hanno usato l'AI generativa per far scrivere determinati tipi di articoli semplici e i giornalisti li hanno riportati sul campo no? quindi hanno alzato il livello dell'inchiesta ed è una cosa che puoi fare alzare il servizio lo puoi fare prendiamo l'analisi dei dati se nell'analisi dei dati inserisci l'intelligenza artificiale che incomincia a darti degli input quello è un aumento qualitativo del servizio per esempio cosa che gli esseri umani non riescono a fare avere degli input intelligenti ogni settimana su tanti clienti è impossibile da fare con i dati e con lo storico dei dati l'AI controllata lo può fare meglio di noi quindi le direzioni sono un po' queste due tentare di capire come diminuire i costi per fare entrare più clienti e aumentare il bacino di utenza quindi fare più soldi diminuendo e dall'altro elevando il servizio aumentando nella qualità secondo me queste sono le due grandi leve del mondo dei servizi Francesca ciao Francesca allora ricopro il ruolo di Junior SEO da due mesi nel settore dell'editoria con cui Google sembra avere intenzione di collaborare per le AI e proprio sulla seduzione di Discover cerchiamo di basare le news per riuscire ad ottenere visualizzazioni le mie domande riguardano è giusto aumentare il posizionamento delle keyword più importanti in vista del crollo del CTR visto da Find seconda domanda vale ancora la pena utilizzare AMP e come si possono monitorare al meglio partiamo dalla seconda che è facile no non vale più la pena utilizzare AMP se il sito è fatto bene puoi usare e fare meno anche di AMP assolutamente questo da un paio da più di un anno ci sono vari articoli in giro vari contributi anche di Andrea pernici su questo tema AMP non è più neanche la prima scelta per Google quindi secondo quindi la prima domanda il crollo visto da Find è ipotizzato è evidenziato da Find che se non sbaglio è una ricerca di search engine land è un crollo che non si risolve con l'aumentare del posizionamento delle keyword perché si sta spostando il modo con il quale cerchiamo spostare il modo con il quale cerchiamo significa fare in modo che il tuo sito ci sia in quelle ricerche è il piano editoriale che cambia e ora ci arrivo a questa seconda domanda Francesca ci sto per arrivare con le conclusioni perché qui ti cambia proprio come ti approcci al piano editoriale e come incamere i dati sul tuo sito in questo caso stai trattando dell'editoria dove è il settore più difficile in assoluto per l'AI cioè più difficile nel trovare soluzioni l'e-commerce è più facile la direzione dell'e-commerce che tra un po' ne parliamo in realtà è quella più facile in assoluto incredibilmente nonostante sarà il settore più colpito di tutti allora l'editoria in questo caso discover non si basa sulle keyword per questo consiglio di guardare i video che ho realizzato su fast forward si basa sui topic sul topic generale non sulla keyword quindi è diverso e si basa sul traffico che le persone fanno sull'audience che tu riesci a creare quindi su discover è importante battere i temi caldi senza i temi caldi è difficilissimo secondo andare nella search console e tentare di mappare quelli che sono i temi per i quali ci finisci spesso e farti una sorta di torta in percentuale per dire ah il 70% delle volte ci finisco quando parlo di x x è un argomento caldo lo devo trattare come faccio ad aumentare il resto? sulla search console tra l'altro Francesca tu puoi andare ad ordinare gli articoli che hanno ricevuto il CTR migliore e gli articoli che hanno ricevuto il CTR peggiore per formare le risorse che scrivono per te nel capire come scrivere come titolare le cose quindi è molto importante però voglio lanciare un altro tipo di messaggio il tuo piano editoriale non deve essere basato solo su queste cose ti devi lasciare una percentuale di esplorazione per te per chi scrive perché se il tuo piano editoriale è basato sulla SEO e basta è un problema o su discover e basta sulle tendenze è un problema è un problema nel senso vuol dire che copri solo una parte e potrebbe non essere sufficiente per l'internet di oggi a te serve anche la parte quella creativa quella che all'improvviso esplodi e dici ma come è possibile ti faccio un esempio a volte incrocio i temi caldi a volte no uno dei miei ultimi video che ha ricevuto davvero tanto traffico da discover si intitola video editing due punti da due ore a dieci minuti con l'intelligenza artificiale filmora è il miglior software sì c'è la tendenza perché ho trattato il tema dell'intelligenza artificiale ma c'è una scoperta una creatività nell'andare a dire questa cosa cioè nessuno stava cercando e cerca come ridurre i tempi di editing no però glielo ho inserito e questo se avessi fatto un piano editoriale basato sulla SEO o su discover non l'avrei mai scoperto è venuto da che cosa dall'uso che stavo facendo io in quel momento e non è la prima volta che mi capita di fare questa cosa di esplodere con qualcosa che non ho progettato per un piano editoriale ma qualcosa che ho progettato perché la stavo usando ti faccio un altro esempio Francesca quando scoppiò la pandemia io scoprì e fu il primo in Italia Streamyard software di streaming no sono stato il primo a scoprirlo e a fare un tutorial in Italia quel video ha fatto un sacco di visualizzazioni ma non perché qual è il miglior software di streaming ma perché c'era un'esigenza che era come fare le live in due facile questa è un'esigenza che non trovavi da nessuna parte non la trovavi su Trends non la trovavi su Google Ads nessuno ti diceva che era una chiave cercata quindi non l'avresti mai presa l'ho presa perché era un'esigenza nostra di lavoro ho capito che era un'esigenza l'ho titolato in quel modo e il video è esplosso quindi una parte del tuo piano editoriale deve essere fatta con la tua creatività con la tua voglia di scoprire con la tua voglia di restare curiosa e questo è quello che l'AI difficilmente andrà a replicare la cosa che ti può fare è aiutarti in questa creatività questo l'AI ti può aiutare ora andiamo verso le conclusioni sì c'è un altro software che si chiama Aldo EVmax che ho trattato sempre su Fast Forward che secondo me è meglio di Streamyard Streamyard viene usato da tutti perché è il più facile non ti nascondo che anche io mi trovo a usare Streamyard nonostante EVmax è molto meglio questo senza alcun dubbio per la sua facilità perché qui riguarda una grande lezione di marketing per tutti noi che racchiudo sempre con la frase di Kundera del libro di Kundera che si chiama l'insostenibile leggerezza dell'essere che Calvino nella sua citazione e recensione del libro di Kundera sintetizzò così nella vita tutto ciò che entra come leggero prima o poi non tarda a rivelare la sua pesantezza significa che all'inizio usare una cosa nuova è leggero perché la novità poi diventa pesante nell'uso che oggi facciamo di internet di così tanti strumenti di così tante cose abbiamo un carico cognitivo molto importante nello studiare nuove cose ma soprattutto nell'andare a ricordarci come si usano le cose che usiamo già e Streamyard ci aiuta perché non ci fa fare lo sforzo di doverci ricordare come si usa lo strumento lo apriamo e lo sappiamo usare qualsiasi altro strumento invece dobbiamo ricordarci come si usa questo è un grande insegnamento per tutti quelli che fanno marketing di prodotto chiudiamo questa lezione di questa si è user friendly però è anche di più di user friendly è un concetto più avanzato della ruba business di questa digital school con che cos'è che cambia da un punto di vista proprio di marketing perché abbiamo visto questa home di Google nuova che farà esplodere e discover è l'AI generativa in Google e in tutto questo c'è il cappello macro di che cos'è che sta cambiando per le persone e di che cos'è che cambia per noi i settori intaccati in primis da queste grandi cose che stanno arrivando e che spostano non milioni di persone a fare cose ma miliardi di persone a fare cose ricordiamo che YouTube è usato da 2 miliardi di persone al mondo cioè ogni mese non nella storia ogni mese 2 miliardi di persone si logga una modifica su YouTube la vedono 2 miliardi di persone è una cosa incredibile mi fa sempre impressione questo dato i settori toccati sono sicuramente per quello che abbiamo visto news video mondo local e-commerce e tutta la questione personal la personalization queste 5 cose sono molto molto toccate il traffico verso le news verso i siti di news e verso chi fa contenuti cresce crescerà sempre di più cala Facebook Facebook per le notizie è crollato a Facebook non importa più delle notizie chi è che è rimasto? Google che si sta imponendo come leader per quanto riguarda i video esplode TikTok ed esplode YouTube TikTok nel formato breve YouTube come TV del mondo qualsiasi tipo di formato creator ibridi creator multiformato live video on demand shorts spinti nella home di Google e in Discover per il personal esploderanno tutte tutte le ricerche nostre personali di aiuto di assistenza non solo in fase di ricerca classica ma nelle frasi di ricerca dell'essere umano esploderà totalmente l'uso delle AI a prescindere oggi la vediamo come una cosa appiccicata alle cose che usiamo tra qualche mese sarà naturale per tutti noi averla integrata nell'hardware nel software quindi nello smartphone nel browser nel computer ovunque sarà un qualcosa in più che useremo normalmente così come aprire il computer apriamo il computer e ci arriva lo schermo ci arriverà l'iconcina per usare le AI il mondo local è impattato da tutto questo perché con l'esplosione del traffico da Discover Discover ultimamente sta mostrando molte cose locali perché è personal riguarda la personalization quindi è molto molto importante il mondo local e infine l'e-commerce il mondo e-commerce è quello più impattato di tutti perché riguarda il personal la personalization riguarda la parte local perché riguarda i negozi riguarda i prodotti che non riusciamo più a trovare e che quindi chiediamo quante volte vi è capitato nell'ultimo periodo di fare delle cose che non facevate più da molto tempo chiedere ad un amico ad un'amica un consiglio per un prodotto per l'acquisto di un prodotto vi sta capitando più frequentemente perché non trovate più niente non riuscite a trovare ora ci arriviamo perché non riusciamo a trovare le cose quindi la questione della della i-generativa riguarderà molto la parte di assistenza non riusciamo a trovare le cose perché abbiamo passato alla fase in cui c'era poco materiale oggi c'è tanto materiale quindi tutto questo materiale non riusciamo più a trovarlo non solo perché non non funzionano più i classici e i vecchi e i non più esistenti ed esistenti motori di ricerca ma perché l'informazione che vogliamo è troppo dettagliata e serve un passaggio tecnologico per aiutarci che è quello che farà la i-generativa si chiama il paradosso della scelta questo andare in confusione perché hai troppo e allora la risposta a tutto questo da parte nostra come marketers quale dovrebbe essere? dovrebbe essere quella di andare in due direzioni uno quello di aggiornarsi seguendo tutto quello che sta accadendo nel dettaglio perché tutte queste robe sono robe anche tecniche vi faccio un esempio l'e-commerce del futuro tutto quello che vediamo in pagina di una scheda prodotto deve essere categorizzato correttamente in un database faccio un esempio se c'è scritto il prezzo del prodotto e se c'è scritto che quel prezzo è in offerta fino a domani e se c'è scritto che l'offerta è valida solo per i nuovi clienti e se c'è scritto che è del 10% sono 4 informazioni tutte diverse etichettate nel DB in modo diverso oggi non sempre è così etichettiamo solo le cose importanti ma se non etichettiamo correttamente tutto quello che c'è nella scheda prodotto l'AI non possiamo utilizzarla quindi il primo passo è quello di adeguarsi tecnologicamente all'uso dell'AI con dei sistemi che ci vanno ad archiviare le informazioni in modo corretto e per quanto riguarda la parte dei dati l'utilizzo di un DB come può essere Big Query di Google o di altri DB che ci consentono di avere la proprietà del dato il traffico che noi facciamo le query per i quali gli utenti arrivano sul nostro sito correttamente archiviato per far usare poi all'AI il lavoro sui dati e l'altra direzione è la parte di content marketing la parte di content marketing deve cambiare per come è fatta ad oggi perché ad oggi le persone hanno creato dei piani di content marketing andando a considerare solo alcune fasi della ricerca umana ma la fase ispirazionale non la si può fare con degli articoli e basta servono dei video brevi serve andare su TikTok serve fare il video con l'influencer serve andare su YouTube Shorts e la fase risolutiva assistenziale serve mettere un'AI generativa sul sito come si come c'era c'è la ricerca serve fare un piano editoriale sui contenuti per spiegare che quella è la migliore scarpa da tracking se stai per andare a fare 10 km se stai per andare in un terreno di un determinata tipologia quindi servono contenuti editoriali adatti ad evidenziare le cose molto belle che abbiamo nel nostro e-commerce non sono più sufficienti i siti che abbiamo creato finora vedrete ci sarà un grande hype sull'AI e sui gestionali che integreranno l'AI e faranno un botto commercialmente ma integrare l'AI nei gestionali è un piccolo passo è come voler fare business su internet e registrare il nome del dominio magari con Aruba che è meglio però detto questo l'AI noi dobbiamo usarla sui nostri dati quindi dobbiamo averli correttamente e dobbiamo guidarla il piano editoriale deve incominciare a tenere in considerazione che abbiamo bisogno di dati archiviati correttamente abbiamo bisogno di articoli abbiamo bisogno di video abbiamo bisogno di funzionalità il nostro sito e-commerce deve poter consentire di aprire un assistente e con l'AI generativa di rispondere a una domanda dell'utente e se l'utente vuole comparare due prodotti dobbiamo creare una tabella comparativa di quei due prodotti lasciando la possibilità all'utente di selezionarli ma se questo non avviene tramite i dati strutturati che abbiamo e le funzionalità e la piattaforma è inutile che poi uno Shopify di turno mi inserisce l'AI generativa sui title perché mi serve fino a un certo punto a noi serve avere una cultura a 360 gradi quindi io vi invito anche a ragionare sulle vostre competenze e capire quelli che possono essere i vostri percorsi di crescita da qui ai prossimi anni perché sono sicuro che la maggior parte delle persone con un po' di esperienza passeranno da essere degli specialist a degli strategist e tutte queste persone andranno a far capire come utilizzare l'AI nel digital marketing come andarla a declinare quindi secondo me questi saranno i passaggi va bene direi che con questo ho abbastanza concluso vedo se c'è qualche domanda veloce da rispondere in chat questa di Luisa magari ti rispondo poi di persona perché è abbastanza complessa visto che poi ci stiamo vedendo lo andiamo ad approfondire proprio col seminario che stai venendo qui ad ascoltare a Bologna il 31 quindi andiamo ad approfondirlo perfettamente ok grazie Aldo vediamo se arriva qualche domanda se no chiudiamo ok direi che a questo punto ci possiamo salutare qua spero di avervi tenuto compagnia degnamente in questa ora e mezza di avervi dato degli spunti di riflessione che vi possono portare più che altro che è la cosa che mi interessa di più ad una visione ciao Lucio diversa del nostro mondo perché quello che vi guiderà nel futuro non saranno le robe tecniche che imparate e imparerete nei prossimi mesi anni e che avete già imparato nella vostra vita ma la cosa che vi porterà nel futuro è la vostra visione per questo per questo tento sempre di seminare invece che fare altro quindi questa è un po' la visione le robe tecniche sono super interessanti e si possono trovare miliardi di tutorial su internet per imparare oramai gratuitamente qualsiasi tipologia di cosa credo che invece la visione sia quello che fa la differenza quindi vi auguro un buon approfondimento vi auguro magari di dormire stasera con un po' di rotelle che vi girano in positivo per farvi fare un passo in più in quello che è il vostro futuro professionale su internet grazie a tutti vi do appuntamento al 28 di novembre con la Digital School di Aruba Business ci sarà Francesca Bernini siete in buone mani e una delle professioniste italiane più preparate che abbiamo per quanto riguarda l'e-commerce è il mondo social approfittatene perché Francesca è molto preparata quindi arrivate con delle domande belli pronti e preparate buona serata buon aperitivo e buona cena